Ciao a tutti, gli uomini preferiscono le donne mature. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, vediamo un attimino per quale motivo gli uomini preferiscono le donne mature. Allora, il primo motivo è che le donne mature sanno quello che vogliono. Sono emotivamente, diciamo, hanno vissuto diverse emozioni, hanno vissuto diverse sofferenze e spesso sanno quello che vogliono. Sono più consapevoli dei bisogni del partner. Intanto quali sono le donne mature? Beh, sono donne che hanno avuto, non è strettamente collegato all'età, alla maturità. Vi sono delle donne cinquantenni che non sono assolutamente mature e donne di 40 che invece lo sono. Sicuramente, ovviamente, le donne mature sono negli anta, diciamo così, dai 40 in avanti. Però non tutte, non è che invecchiando si diventa mature. Però invecchiando si può diventare mature. Quindi un'altra caratteristica delle donne mature è che sono attente, diciamo, ai desideri del partner. Sanno capire quali sono i desideri del partner. Non soltanto i desideri, diciamo, logico-razionali, ma anche quelli emozionali, anche quelli sessuali. Un'altra cosa che spesso succede è che tendenzialmente non assillano l'uomo per convivenze, matrimoni. Certo, vogliono magari una relazione stabile, ma magari essendo, avendo già avuto esperienze matrimoniali, avendo magari già avuto figli, vogliono una relazione stabile, ma, diciamo, non comprensiva di convivenza, di matrimonio, eccetera. Quindi spaventano di meno da questo punto di vista. Poi hanno imparato anche, diciamo, a coltivare l'intimità, a vivere l'intimità. Non hanno, come dire, bisogno, normalmente si sono maturate bene, di andare in giro a feste, discoteche, così, questo genere, diciamo, ma sanno apprezzare, sanno coltivare l'intimità. E sanno nell'intimità prendersi cura del proprio compagno a 360 gradi. Ad esempio, solitamente sanno anche cucinare, sanno anche, come dire, far passare una serata piacevole, magari rimanendo in casa. Sanno comunicare. Ecco, diciamo questo, che l'età di una donna matura non si misura in anni, ma in esperienze. Quindi, questo è importante. Tendono a non avere neanche degli scatti razionali. Insomma, hanno un sacco di caratteristiche positive che le ragazze, le trentenni, i venticinquenni, i trentenni, non hanno. Hanno, diciamo, molti grilli per la testa e danno meno affidabilità e meno stabilità. Per cui le donne mature piacciono gli uomini. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Taramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, a Felicità e a Benessere, di cui ti posto il link in descrizione di questo canale. Ciao a tutti!